Ho risultato la parata che ha fatto... Mi ha travolto l'attaccare... Questo è il risultato... Questo è il risultato... Hai visto? Sì, per la tua prestazione, decisamente... È andata bene... Devete preoccuparsi di lui... Vabbè, certo... Venga, per la partita, alla fine, anche con il salvataggio... Diciamo... Un po' rocambolesco, però... È andata bene... Lavoriamo tutta la settimana sui concetti... Che poi cerchiamo di... Riportare in partita... È andata bene... Oggi... È stato uno dei migliori in campo... È sbarrato la strada... In maniera importante... All'attaccante del concetto... Libertà... Ti avevo visto sereno... Ecco, forse questa serenità... Ti è mancata... Ti sei spiegato... Magari all'inizio ancora un po' Il tempo di ambientamento... Nella categoria è superiore... Comunque, giocare in primavera... Sì... È... Difficile, però... I ritmi sono anche prudenti... Non si gioca per i tre punti per forza... Anche se sbaglia una partita... C'è quella dopo... Invece qua... Tutte le partite sono... Sono una guerra... Devi... Devi conquistare il pane tutte le partite... E quindi... Con un po' di... Crescita in più... Adesso... Speriamo di tirare fuori qualcosa di buono... Facendo una banduta... Tu puoi insegnare... A Navaglia... Come si... Come si fa nel governo... E sto capata... La cerita... Adesso... Tanto... Andrò a trovarlo in camera... Gli spiegherò bene tutto... Grazie Umberto... Grazie...